892 892 salve sono Loredana in cosa posso esserle utile Ale, oh, io ti stupirò tra un 1288 e un cellulare Ale, oh, dammi un numero, chi la fantasia mi faccia superare Tu, oro brillanti, non sai quanto mi manchi, ma il tuo numero non lo so Telefonerò all'892, oh, sono un moridipoli, ma fanno un miracoli Telefonerò, forse sì o no, affinché io ti possa parlare per invitarti qui con me Apri gli occhi, vedrai il carnevale che darà i numeri per te Ale, oh, forse impazzirò tra pubblicità, offerte e sconti vari Ale, oh, mi ritroverò Una preoccupante forma maniacali Tu, o tuzza di siata, sai di acqua salata, ma il tuo numero non lo so Telefonerò all'892, oh, sono un moridipoli, ma fanno un miracoli Telefonerò, forse sì o no, affinché io ti possa parlare per invitarti qui con me Apri gli occhi, vedrai il carnevale che darà i numeri per te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti